Oggi utilizziamo il MAX 7.2.1.9 con il display a 7 segmenti collegato, quindi ci sono delle schedine che hanno 8 digit, quindi 8 cifre a 7 segmenti a led pilotate da questo chip. Vediamo come funziona e come utilizzare questo tipo di scheda. Come vedrete ho avuto qualche difficoltà per via delle librerie e delle numerose varianti prodotte dai vari produttori cinesi. Iniziamo subito. Oggi usiamo un display che utilizza il MAX 7.2.1.9 collegato non a una matrice a led ma a dei display a 7 segmenti, quindi troverete una schedina con una serie di pini soliti, CS, CLK, DIN, però invece che una matrice a led troveremo una sequenza di display a 7 segmenti a led, cioè le classiche cifre, quelle con l'otto, quel puntino qua. Le troviamo ben 8 controllate da un singolo chip MAX 7.2.1.9. Questo può farlo perché il MAX 7.2.1.9 può controllare delle matrice a led 8x8, quindi considera praticamente ognuno di questi oggetti come se fosse una riga e le colonne corrispondono ai singoli elementi interni. Andiamo a costruire l'hardware, lo prepariamo collegando la nostra schedina all'arduino. La schedina la trovate in vendita sui soliti siti Amazon, eBay, eccetera, eccetera. Ha una serie di pin che sono i soliti che troviamo, quindi abbiamo CLK, CS, a volte chiamato anche load e il data in, più ground e l'alimentazione a 5V. Li colleghiamo all'arduino. Il CLK lo portiamo sull'8, CS sul 9 e data in sul 10. Questo è quello che ci basta. Poi qui troviamo le varie cifre, quindi gli 8 che si susseguono e che potremmo andare a comandare. Andiamo a vedere cosa succede utilizzando la libreria. Purtroppo ha un comportamento un po' particolare perché dipende spesso anche dall'hardware utilizzato e da come vengono effettuati i cablaggi. Allora, la libreria da usare è la led control che io ho già installato. La potete trovare nel library manager e la installate. Una volta installata, la potete includere mettendo include led control. Andiamo a configurare una serie di costanti che corrispondono ai pin che abbiamo, quindi CLK, CS, su 9, DIN, su 10, elementi pari a 1 perché abbiamo un solo chip. Andiamo a istanziare l'oggetto, led control, lo chiamiamo LC, passando di questi parametri, e il numero di elementi, cioè i chip, in questo caso ne abbiamo uno solo. Nel setup prepariamo il display, quindi facciamo shutdown 0, quindi l'elemento 0 false, quindi andiamo ad accendere il nostro chip, andiamo a impostare la luminosità con set intensity, la mettiamo subito sotto. Queste sono le classiche istruzioni che utilizziamo. Io ho messo 3, ma qui possiamo andare da 0 a 15. Poi andiamo a ripulire il display prima di utilizzarlo, in modo da spegnerlo e togliere eventualmente qualche bit spurio, in modo che se avete qualche segmento acceso si spegne, quindi CREAR DISPLAY 0. Poi se volete potete anche inizializzare la SERIAL BEGIN nella porta seriale per stampare qualcosa nel caso volete fare del debug. Qui faremo un contatore su una cifra sola, quindi facciamo C uguale 9, giusto per vedere se va la nostra libreria. Questa variabile la incrementiamo e se raggiunge il valore, quindi se C è maggiore o uguale di 10, la azzeriamo, quindi C uguale 0. In questo modo ci ricaviamo un contatore. Vogliamo visualizzarlo, stamparlo sulla cifra, una delle cifre del display. Ne usiamo una sola, giusto per vedere se va. L'indice parte da 0, quindi questa qui è la cifra numero 0, questa qui è la numero 7. C'è un metodo che si chiama lcsetchar. Prende l'indirizzo del chip, abbiamo uno solo, quindi è 0. La cifra che vogliamo attivare, quindi la 0, qua gli passiamo il carattere da visualizzare, si attende un byte, quindi dovrebbe andare bene anche C, ma per sicurezza gli metto byte C, lo forzo. E poi un boolean che serve per accendere o spegnere il puntino che fa da virgola. Mettiamo un delay, altrimenti andiamo troppo forte, facciamo un delay 200. E per sicurezza vado anche a ripulire il display prima di impostare la cifra. Questo qua dovrebbe essere quello che ci serve per far partire un conteggio sulla cifra di destra da 0 a 9. Compiliamo il tutto, proviamo a caricarlo. Ah, mi sono dimenticato lc. Ok. Lc.setchar, adesso dovrebbe essere a posto, l'ho compilato, lo carichiamo. Qua lo vedete caricato, purtroppo per vari motivi vedete che si accendono cifre a caso e poi il conteggio si ferma e non va più avanti. Questo dipende un po' dal cablaggio, dal chip, dall'hardware, ma c'è qualcosa che non funziona. Poi mandare più a basso livello a capire come può funzionare e come possiamo migliorare. Considerato che il nostro chip va a pilotare questi display come se fossero delle matrici di LED, quindi ragiona per righe e colonne, ogni singola cifra è pensata come una riga. Le colonne sono i singoli elementi del LED, quindi se faccio più in grande, questo qui è il nostro segmento, ho 8 punti, il max è capace di controllare 8 righe su 8 colonne, quindi ogni riga corrisponde alla cifra, la colonna invece sono mappate sulle varie parti del nostro elementino a 7 segmenti. Quindi questo è l'indice 0, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Proviamo a comandarlo in questo modo, con questa logica qua. Potrebbe dipendere anche dal cablaggio che è stato fatto sulla vostra scheda, perché ognuna fa un po' a sé, purtroppo. Allora, manteniamo tutto uguale, solo cambiamo il nostro loop. Quindi questo qua possiamo andare a ripulirlo, poi voi comunque lo troverete sul repository di GitHub, l'ho mantenuto, lo trovate. Allora, cosa facciamo? Andiamo ad attivare i singoli elementi, come se fossero righe e colonne. Vediamo se ha senso. Int, rv e cl sono due variabili che uso per row e column, abbreviate. Mettiamo sempre il clear display prima di partire. Qui dentro ci servono due cicli for, quindi for rv uguale 0, rv minore di 8, rv più più. Quindi incremento le righe, le faccio andare da 0 a 7, faccio lo stesso per le colonne, quindi vado a mettere dentro il primo for, un secondo for, occhio alle parentesi, ok? Questo andrà su cl, quindi sulle column, e va da cl uguale 0, cl meno 8, cl più più. Quindi la prima mi cambia la cifra, quindi andremo da destra verso sinistra. Il secondo ciclo innestato va ad attivare le singole parti del nostro elemento a 7 segmenti. Come faccio a comandarle? Uso setLED, quindi setLED, 0 indirizzo del chip, rv la prima volta sarà 0, poi cambierà di modulo in modulo e cl va da 0 a 7. Mettiamogli un delay, facciamo una specie di blink, ok? 1.000, se volete possiamo metterlo anche un po' più veloce, insomma, come preferite voi. Quindi facciamo così. In questo modo lo vado ad accendere. Forse prima ho detto una stupidata che true for serve per accendere il punto, in effetti no, il punto corrisponde alla posizione 0, true for serve per accendere o spegnere il led nella posizione indicata. Quindi qua metto false, il secondo ciclo for va a puntare il dito sui vari elementi, quindi sullo 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Se metto true lo accendo, se metto false spengo l'elemento. Qui lo vedete in azione, effettivamente comandiamo correttamente i vari elementi del display. E funzionano tutti. Ora possiamo sfruttare questa informazione per provare noi a scrivere una funzione che va ad attivare i digit in modo corretto e quindi possiamo provare a fare un conteggio. Allora usiamo una tecnica che abbiamo già sfruttato in altri casi. Metto qua l'inizio, mi creo un array che chiamo digit, digits, è di bit, ne metto 10 elementi, qui mettiamo le graffe, punto e virgola, qui dentro cosa vado a mettere? Lo stato dei singoli elementi di ogni cifra. Sono numeri definiti come bit, quindi ho 10 elementi, quindi andrò da 0 a 9. Quindi il primo corrisponde allo 0. Per accendere lo 0 dovrò attivare gli elementi corrispondenti al 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 7 e 0 devono essere spenti. Questo corrisponde a una stringa di bit fatta in questo modo. Immaginiamo che parto da qui e mi sposto, quindi questa qui è la posizione dello 0, quindi qui metto 0, poi avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 6 uni e poi avrò l'ultimo segmento 7 che vado a mettere a 0. Quindi questo qua mi serve per lo 0. Vado a copiarlo qui, faccio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un altro 0, virgola. Andiamo a creare la configurazione per l'1. Stesso modo l'1 sarà creato così, quindi vado a mettere B, devo accendere solo il 2 e il 3, quindi ho 0 spento, 1 spento, 2, 3 accesi, tutti gli altri spenti. E così via per tutte le cifre. Adesso esercitatevi voi, io le avevo già preparate, le vado a incollare, quindi le incollo qui sotto, eccoli qua. Ora dobbiamo andare a creare una funzione che chiamiamo setDigit, quindi metto qui sotto, possiamo ripulire il loop che poi modificheremo. La funzione void setDigit prenderà l'indirizzo del nostro chip, quindi adder, poi avremo pause il digit che voglio accendere da 0 a 7, quindi la cifra, e poi il numero int n che voglio far comparire. Prima cosa, conoscendo il numero, vado a estrarlo. In questo caso siamo fortunati. Allora, i nostri mapping sono contenuti dentro Digit, che sono byte, e corrispondono proprio ai numeri da visualizzare. Quindi la prima riga è lo 0, la seconda è l'1, la terza è il 2, e corrispondono proprio come indice, cioè l'indice 0 mi tira fuori la cifra 0, indice 1, cifra 1, quindi non mi serve un mapping come abbiamo fatto in altri casi, ma posso prenderla direttamente. Quindi avrò il mio digi uguale digits dn. Ora dovremmo andare a fare la scansione di questo oggetto, tirando fuori di volta in volta lo stato del bit da applicare poi ai vari led. Ora iniziamo a mettere un ciclo for. Questo ciclo for deve fare la scansione delle colonne. Quindi faremo int cl uguale 0, cl minore di 8, cl++. Come faccio a estrarre le cifre? Usiamo il solito sistema della mappatura. Quindi se questo qui è la mia cifra, questa volta partiamo da sinistra e andiamo a destra, per come l'abbiamo creata, mi serve uno schermo, lo riscrivo qui da capo, abbiamo il nostro B che è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0. Questi rappresentano lo stato dei led della nostra cifra, li faccio qua in rosso, quindi sono questi qui. Vado a comparare questo byte che ho tirato fuori con una maschera che creo questa volta in questo modo, quindi è un 1 che inizierò a confrontare e poi pian pianino lo faccio scorrere verso destra. A questo qui corrisponde in decimale a 128, quindi sono 128 per farlo più breve e lo farò scorrere di volta in volta di 1. Questa maschera, se la metto in AND, lo vado a scrivere così l'operazione, AND logico, fa sì che faccio passare solo il bit in corrispondenza dell'1. Quindi qui ho 1, qui farò passare lo 0, lo 0 corrisponde a false, quindi sarà spento. Poi faccio scorrere la maschera di una posizione, quindi facendo shift di 1, va di qua, l'1 si mette in quest'altra posizione, qui ho un 1, quindi qui sotto avrò 1. Il numero che mi uscirà sarà 1, 0, 0, 0, 0, quindi sarà ben maggiore di 1, ma viene riconosciuto come se fosse un true e così via. Andiamo a ricostruire allora qua il nostro test, qui posso usare direttamente questa cosa, faccio IF, aperta tonda, qui metto le graffe, cosa metto qui dentro? Faccio l'operazione di confronto, faccio DIG, la nostra cifra che abbiamo estratto, AND, quindi la metto in AND logico, con la nostra maschera 128, cioè 1 seguito da tutti gli zeri, che faccio shiftare dell'indice CL, quindi la prima volta 0 resta uguale, quando CL vale 1, questo qui si sposta a destra di una cifra e così via. Quello che esce qua, potrei usarlo direttamente, altrimenti facciamo, se questo qui è maggiore o uguale di 1, vuol dire che devo accendere il LED, allora vado a prendere l'istruzione lc setLED, mettiamo add della cifra, poi ho pause, che è il digit che voglio comandare, CL è l'elemento corrente, quindi vado a mettere true. Se questa cosa qua non è vera, quindi faccio else, allora lo andiamo a spegnere e mettiamo false. Probabilmente ci potrebbe usare un'istruzione sola mettendo questa parte qui dentro, lascio così che è più chiaro. Abbiamo creato la nostra funzione per comandare i digit, a questo punto possiamo provare a fare un conteggio, creiamo una variabile c che useremo per fare il conteggio come abbiamo fatto prima, quindi dentro loop faremo c++ e if c maggiore o uguale 10 l'ha a 0, c uguale 0. Gli mettiamo un delay, un delay di 200 e qui andiamo a richiamare la nostra funzione. Allora ripugliamo il display con lc di 0 clear e poi chiamiamo setDigit, qui conteremo solo sulla prima cifra. Cosa gli mettiamo? Mettiamo 0 che è l'indirizzo del nostro display, ne abbiamo uno solo, poi abbiamo pause, la cifra a destra è 0 quindi lo metto fisso, inserisco C che è la cifra da visualizzare, compilo e carico. Vediamo se funziona. Come vedete funziona correttamente. Bene, per oggi è tutto, avete visto un approccio forse un po' lungo ma che ci ha permesso di capire bene come funziona e di creare un metodo per utilizzare il display su misura per le nostre realizzazioni, quindi indipendente da magari metodi della libreria che potrebbero non funzionare a causa delle differenze dell'hardware. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!